Allora, continuiamo il nostro journey con 3HP in questa direzione, vediamo un po' Ma quanto cacchio è lontano sto posto? Ci stanno giusto mobbetti, oh vediamo magari c'è un lettino qua, chi lo sa, hai visto mai? Cazzo, c'è proprio niente, però c'è un teletrasporto che è buono, lo andiamo a prendere veloci Poi ci spostiamo di qua, andiamo a fare i ninja qua, hey hey hey, è mad, è mad, è mad Ma vaffanculo va A posto che a posto ragazzi Siamo presi i nostri 200 EXP, visto che abbiamo sbloccato sto teletrasporto che sta letteralmente a un tiro di schioppo da qua Credo di aver aggrado qualcosa, no c'è solo la musica a buffo Torniamo un attimo all'accampamento Era un rumore metallico o era un bambino che cantava? Cos'è sta diventando Silent Hill sto coso? Diventando spettrale Andiamoci a prendere le granazie che ci servono perché Vai Che gli posso vendere? Le solite robe, quelle farlocche, vediamo un po' Un po' di denti, un po' di artigli, un po' di rottani, un altro po' di rottani Insomma Insomma, insomma Vabbè, queste altre cose le facciamo poi Che no non ce n'ho abbastanza, non mi va di cliccare 40 volte Lo andiamo a riposare Il letto lo devono mettere letteralmente in mezzo alla strada Così uno ci cliccava e riposava E togliere sta animazione fedente Che sicuramente c'è qualche mod per farlo Allora, riandiamo a prendere Bello Favoloso, Croni Mi ha dato due di due Elex Andiamo di qua Potremmo pure comprare l'Elex grezzo Però più sti cacchi Io compro le granate e basta Che sono l'unica cosa utile Tirare le bombe è l'unica cosa utile Allora, torniamo qua e andiamo a fare sto convertitore Faccio le pazze Che stai a dire, ragazzo? Che stai dicendo? Andiamo a schioppare tutto qua dentro Vai, vai Andiamo a tirare le bombe Ulala C'è un bel gigantone qua Ok, ci nascondiamo come i conigli Ehi, 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 ehi Ehi, 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 ehi Ai, 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 questo si è accasciato E' alla fine, è alla fine Non gli è convenuto accasciarsi Ecco, a posto Via, via Via, via Uh, ce ne stanno altri belli Questi vanno fatti, rega Danno un sacco di expi, un sacco di sordi Oh, c'è anche un bunker Un bababunker c'è qua Qualcuno dentro? No, c'è un... Un rumba Rumba No, no I'm not good enough Nascosti Ah, mi sono colpito da solo, vabbè Di nuovo, va bene Ok Il robottino Non mi caga neanche il robottino Mo' lo carico de brutto A parte, ma se gli tiro una bomba Esplode Più che altro era per prendere questo Ah, mo' se ce ne stanno altri Dei robottoni Bene Ce ne stanno altri Regà, conviene farceli tutti quanti, eh Conviene farceli tutti quanti L'unica cosa è che qua C'è, rischiamo un pochetto Con La situazione Gente, ecco Gente che mi inchioda Con Ma va Ma che cazzo Me la so tirata sotto i piedi Palesemente Questa me la so proprio tirata sotto i piedi Come il vero babbo di micchia Me rendero Allora Avevamo detto Ah, questo qua non l'ho Vai Oh mamma Peccato che non ci siano dei letti Dentro ste cazzo Per faciliti Così diventa una rottura di coglioni Uno deve tornare indietro Ogni volta Questi moboni Quali faccio? Tutti i soldi Tutta ESP Tutti i bei soldi Tutta bella ESP Oh mamma Oh mamma Oh mamma Mi sparano da ovunque Oh Sono matti Sono matti Oh Sono pazzi In volo No, non ci conviene Ci conviene farlo Da qua giù E magari quando siamo full HP Tutto là Madonna santa No, ci vogliono le bombe Questi fanno dei bei dannuzzi Devo dire O se no sapete che c'è Andiamo dentro De qua Favamo sei cosi Poi cerchiamo De risolvere Il resto De Della storia Vediamo Uh Ah E' pazzo E' pazzo E' pazzo E' pazzo Non pensavo Che la situazione Fosse Oh Ma va a cagare L'avevo pure tirata La bomba Prima di crepare Mannaggia La miseria Non l'avevo visti Questi stavano proprio dentro Così che Appizzati Questi spell qua A me non mi fanno Impazziti Devo dire Onestamente C'era di meglio Oww Facci sua Vaffanculo Mi dobbia pure rifà Questo pezzetto Maledetto Usiamo Ah Cazzo L'ultimo Maledizione Au Ma che mo' Abbiamo finito Veramente Sacco De quattrini Oddio C'abbiamo altra roba Grata sopra In realtà Mi sa Quindi dobbiamo Un attimo O sotto Non capisco No ma sai che Sono sopra Questi Ci sarà quella Classica cosa Che tipo E appena Prefair Istantaneo Ma come fai A vincere così Mi toccherà Mi toccherà Reccare la vita Qua Stiamo usando Un paio Di granatelle Gioco Il tizio Ok Eccolo Comicamente decollato Il tizio Ok Andiamo sopra Un po' Ha un non so che Di Di horror Questa parte No In un batter d'occhio Io ho detto Di andarsene a Origin Out of nowhere Mo ci saranno altri Che pare Acci vostra Ho Ho finito Io non c'ho più vita Salvo la partita C'ho più tripa Per gatti Qua Se mi spara Anche mezzo Nemico Siamo Cos'è Mi Sanno quelli sopra Che mo' proveranno Ad assalirci Sicuro Qua sarà tipo Sali E gli sta muori Una venti Una venti Però la sta andando bene Con questo cittino Questo cittino Importante Salviamo partita Per sicurezza Arrivederci Ce n'è un altro Uh c'è un Oh Rotter Allora Bene Salva Ho fatto Ordine ritirata Disattiva il poso Level up Molto bene Molto bene Ci fa la cosa Andiamo a lootare Ah questo scrigno Poteva essere buono Però andiamocene da qua Andiamo a prendere loot Che è sempre buono E rimediamo Qua tra l'altro C'è sta No non credo Era solo enorme Sto posto Rimediamo Irrimediabile Elex A manetta Borsa grande Elex 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 Rapporto Rapporto Celle Celle Del pifero Altre celle Altro Elex Altre celle Onda d'urto Celle energetiche Celle Celle Roba mentale Bevanda all'Elex Registrazione Faccio uguale Il soggetto Se cacchio Gli hanno fatto Sto povero Cristo L'hanno rovinato L'hanno rovinato Allora salviamo Dobbiamo tornare Dell'à Per forza Dobbiamo tornare Dell'à Che ci dobbiamo Dà Una bella curatina Assoluta Grazie a tutti